Pareggio amaro per l'Aianese in casa del San Marino. Dopo aver condotto per quasi tutta la gara con il doppio vantaggio grazie alle reti di Lica nel primo tempo e Boccalon nel secondo, i padroni di casa sul finale hanno accorciato prima Contosi e poi pareggiato i Conti con Deste. Per l'Aianese è comunque il quinto risultato utile consecutivo. C'è rammarico perché dovevamo portare in porto una vittoria che meritavamo per quello che si è visto in campo, abbiamo creato tanto, abbiamo fatto due gol, abbiamo rischiato poco e su le condizioni atmosferiche è stata dura per tutte e due le squadre perché c'era un vento veramente fortissimo che ha messo in difficoltà i giocatori. Ripeto, c'è rammarico perché oggi abbiamo buttato via due punti e la cosa che mi fa pensare è che non è la prima volta perché anche a Fanfulla una partita dominata abbiamo portato via un punto solo e noi ragazzi devono capire che non si possono buttare via punti così perché non ce lo possiamo permettere per la classifica che abbiamo.